www.feyyaz.tv 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 Ti devi vergognare, fai schifo fai! Buona Gigi dai! Buona! Occhio! Bravo, bravo, bravo Fede! Occhio! Occhio! Gioia! Gioia! Gioia, gioia, gioia! Gioia, gioia, gioia! Gioia, gioia! Elici, elici! Porca Eva! Entra! Entra! Porca Eva! Mi sono spaventato che stiamo arrivando un po' laggiù e lui lo segna il piede. Eh sì, beh, quello lo segna il piede. Oh! Finalmente! Che ti devo far diventare gioventino? Oh! 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 Dai qua! Non ti agitare! Non ti agitare! Guarda un po' Chiunque mandi via ti gira il cazzo. Chiunque mandi via Castaido! Angolo! Super! Si! 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 E' madonna! Angolo! Angolo! L'ha presa! E l'ha tirata bene sì! Dai, dai! E' buona! E' buona! Ma che cazzo fate? Ma cosa cazzo fate? Ma cosa cazzo fate? Ma cosa cazzo fate? Ma dai, da solo era là quello lì! Cristian! Dai! Dai! Porta avanti! Porta avanti! Mastarda Eva, porca! Dai! Solo, solo, solo! Vieni avanti! Vieni avanti! Vieni avanti di qua! Vai! Ecco vai! Vieni avanti! Vieni avanti! Tiro! Vieni avanti! Bravo! Bravo! E' un rilancio fisco! E' un rilancio fisico! Vieni avanti! 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 Vieni av